Allora, per fare il solaio dobbiamo vedere prima di tutto la sezione per capire quanto è spesso questo solaio. Allora, qui posso, come vedete, sto vedendo il muro del prospetto est, anche se non mi interessa, quindi vado su planimetria, seleziono questa sezione e torno indietro con la sezione fino qua, per esempio. Ok? Non mi importa vedere fino a un fondo per ora, poi dopo, quando è completo il progetto, posso estenderlo. Adesso vado su sezione di nuovo e qui posso vedere lo spessore che va misurato da qui a qui. Qui sono quasi 60 centimetri. Un solaio bello spesso. Ok, questo torna e questo torna. Ok, quindi un solaio di 60 centimetri. Facciamo adesso in piano terra, ovviamente dovete tornare a una vista orizzontale per fare questo. Facciamo architecture, floor. Ok? E qui abbiamo dei solai standard. Noi dobbiamo personalizzare un solaio di 60 centimetri. Per ora non abbiamo necessità di fare dettagli perché non sappiamo neanche come è fatto, però usiamo uno di questi. Allora, questo va bene, posso modificarlo, vado su Edit Type, poi qui dentro Structure, o meglio duplicarlo per non sovrapporre questo tipo qua, quindi faccio Duplicate, e facciamo il nostro personalizzato di solaio interno di 60 centimetri. Adesso posso nella struttura dire che questo composto va bene, quello che c'è come default, perché comunque già si vede che è fatto bene, però la struttura facciamo che invece di 16, vedete il Total Thickness è di 30, dobbiamo aggiungere altri 30, quindi adesso facciamo 46 qui invece di 16, quindi abbiamo aggiunto 40 qua, ok, e faccio ok, ok, adesso è diventato di 60, vedete, è questo il dettaglio nuovo, e proviamo a disegnarlo ora, ok, molto probabile che questo, dovrebbe essere in realtà questo, un altro solaio, che è diverso, che ha altri strati, quindi facciamo solo quello interno noi, poi dopo possiamo fare un altro esterno attaccato dall'esterno, quindi facciamo questo lavoro qua, e poi vedo nella sezione anche, che abbiamo il terrazzo che ha lo stesso tipo di solaio, che c'è lo stesso spessore, lo stesso spessore, a volte o di solito sarà diverso, sarà meno spesso, c'è un isolamento in più, quindi ci sono altre condizioni, però per ora va bene così. Andiamo su sempre piano terra, e adesso potete vedere che per fare il solaio abbiamo un'opzione di più qui, di disegno, come abbiamo disegnato il profilo del muro, come abbiamo disegnato tutto, possiamo disegnare delle linee dove passa il solaio, poi oggi abbiamo un'opzione di più, e selezionare i muri, quindi se noi abbiamo fatto già tutti i muri, basta selezionare il muro, e lui salta, si attacca al muro, ok, o si attacca alla parte strutturale del muro, praticamente, quindi utile quando abbiamo già i muri, quindi facciamo pick walls, possiamo selezionare per esempio questo muro, questo muro, questo muro, ok, e questo qua, adesso sto selezionando quelli che, vedete c'è qualcuno che non l'abbiamo fatto ancora, questo qua, qui ancora non abbiamo fatto la lettrata, non importa, ok, adesso questi muri che abbiamo, che abbiamo, poi possiamo aggiungere delle linee, ok, quindi questo solaio per esempio deve venire così, 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 ok, e questo, adesso facciamo solo le linee nuove, poi dopo possiamo cancellare quello che non ci serve, ok, questo da qui fino qui, ok, ovviamente dovrebbe essere un po' verso dentro, però non importa, adesso, poi un altro da qui a qui, ok, adesso possiamo fare fillet, non fillet scusate, trim extend, e adesso possiamo connettere tutti questi, ok, probabilmente va bene, anche questo va bene, se ci serve qui più grande, però mi sembra che è giusto che finisce qua, questo con questo, questo mi dice che non riesce, perché mi ha staccato da lì la linea, allora faccio cancel e torno qua, vedete perché questo, quando ho fatto trim, mi l'ha staccato da questo qua, quindi qui conviene fare invece, qui bisogna fare split, faccio, ovviamente delete inner segments da qui a qui, a qui, va bene, faccio così, poi faccio trim extend, questi vanno bene, questi vanno bene, e questi sono così, questi sono così, ok, ok, e questo va collegato con questo, questi sono già collegati, ok, mi sembra che questo solaio interno, faccio, ok, adesso, volete che tutti i muri che arrivano a questo livello, a livello dove c'ha il solaio, che si attaccano alla parte più bassa del solaio, invece di arrivare sopra, così evitiamo intersezioni che non ci piacciono, questo conviene usare sì, di solito, però a volte fa problemi, perché, perché, diciamo, ci interessa che un muro, per esempio, esterno, che non, perché se c'è il solaio qua, non può arrivare così, dalla parte più bassa invece la deve coprire, quindi, adesso possiamo fare sì, per vedere che cosa fa, poi dopo possiamo evitare di farlo, se non ci piace, quindi potete, potete anche dire di sì, per, alle fine, nella sezione, questo solaio arriva dalla parte strutturale del muro e taglia, diciamo, la parte esterna che è il rivestimento, che è giusto farlo anche questo, facciamo sì, Allora, adesso, apriamo il primo solaio, vediamo che è successo in vista tridimensionale, vedete questo? Questo è il problema che vi ho detto, questo perché arriva qua, allora io ho avuto questo che era, arrivava al piano terra, dove dovrebbe arrivare piano terra, in più 90 cm, qui invece, in questo caso, si è limitato alla parte più bassa del solaio, quindi, in questo caso, vedete, apriamo questi due strumenti, quando seleziono il muro, allora, il primo, attach top base, quindi attacca sopra, o la parte di base, o potete distaccare, allora, quello che, l'opzione che ci ha chiesto lui, quando abbiamo creato questo solaio, è la stessa questa qua, poteva essere fatta dopo, quindi, ok? Vedete, anche si vede dal video qua, che non è dal video dell'immagine, che alla fine, se io ho, per esempio, un tetto a faldo, e posso dire, attaccate a questo tetto, allora lui lo alza, o si attacca al tetto, anche se il tetto non è orizzontale, quindi non solo a un livello, ma a un solaio, può essere allineato nella parte più alta del muro, quindi, in questo caso, io faccio detach, invece, quindi, selezionando questo muro, detach, e clicco sul solaio, e lui si distacca, non avrà questo vincolo, ok? Non so quali altri avranno lo stesso problema, adesso non li vedo, però, mi sembra che va bene così, ok? Quindi, questo arriva a livello giusto. Allora, adesso, se volete vedere un po' meglio questi solai, secondo me, si possono vedere i materiali, se andiamo su altri stili di vista, però i colori, praticamente, sono legati, ovviamente, al texture che hanno questi solai. È chiaro che noi possiamo impostare il materiale come viene rappresentata anche durante il lavoro, quindi, è una delle caratteristiche dei programmi parametrici come questo, che io basta che su questi strati del solaio posso indicare che materiali ha, questo, per esempio, al finish, qui, scritto ceramica bianca, questo sopra, clicco sopra, il materiale, con tre punti qua, posso scrivere il materiale se so già che in libreria ce l'ho, se no, posso aprire la libreria, usando questo quadratino, e qui posso scegliere il materiale del solaio esterno, quindi, adesso, per esempio, posso dire che uno di questi materiali già pronti, perché, ovviamente, uno anche può creare i suoi materiali, può importare altri materiali, però, adesso, nella libreria, come vedete, aspettate, vedete, avete la libreria Autodesk Library, che ha questi materiali, e da questi materiali possiamo creare qualcosa, possiamo anche modificarlo, e possiamo creare una nostra. Allora, vediamo a che cosa assomiglia questo solaio lì, il solaio esterno, e mi sembra che è anche uguale all'interno, non è che, sembra che è la stessa cosa, che è la stessa cosa, sì. Quindi troviamo qualcosa di simile a questo grass. Vedete, la differenza tra sopra e sotto è che questi sono i materiali che abbiamo nel progetto, questi materiali nella libreria. Quindi questi sono tutti i materiali che abbiamo dentro la libreria scaricata, installata con il software. Invece questi, quelli che sono usati nel programma. Ok? Quando usiamo il materiale, alla fine, lui mi le mette come un materiale di progetto. questo oggetto, questa è la visualizzazione, diciamo. Allora, facciamo, usiamo qualcosa tipo calcio-struzzo. Ok? Gettato in opera. Ops! Vedete, adesso se uso questo, vedete qua, qua abbiamo prima, diciamo, il shading, che cosa vedo dentro il modello, dentro il viewport. Poi c'è il surface pattern, che è la superficie. Quindi quando vedo questo oggetto, questo materiale in prospetto, che cosa vedo? Qui, come vedete, si vede niente, bianco, non. E quando è tagliato, quindi nella sezione, come si vede questo materiale. Quindi per questo, per ogni strato di questo solaio, sempre la stessa cosa per i muri, per ogni strato, ci sono questi tre stili di vista. Quindi quando è in sezione, sezione un muro o un solaio, me lo fa vedere in questo modo. Ok? Quando lo guardo in prospetto, quindi nel caso del solaio, quando è in pianta, la sta guardando il solaio, vedo questo, vedo niente, praticamente, che c'è niente. Quindi se clicco sopra, ci sono dei retini, posso anche mettere dei retini per far vedere che cosa c'è, qualcosa in particolare. Ok? Quindi se voglio far vedere, per esempio, la pavimentazione, posso fare così. Ok? E poi questa in shading, facciamo apply per provare. Ok? Vedete questo al finish, ovviamente, è l'ultimo. Questi altri, è chiaro, che si vedono solamente se ho una sezione, perché si vede lo strato anche con il colore. Faccio ok, ok. Vedete adesso, vi fa vedere in shading, vi fa vedere questo grigio che è impostato a far vedere, e poi anche con il retino. Se vado in piano terra, per esempio, vedete come vedo questo retino sopra. Ok? Sopra questi due, che sono lo stesso tipo di solaio. Adesso, se voglio nascondere quello che vedo sotto, posso andare, nella vista del floor plan, posso cambiare visibility. Se andiate su edit, ok, la visibilità dei oggetti. Allora, andiamo su sempre model categories, e qui dobbiamo togliere raster image. Vedete? Immagini raster. E adesso, se faccio ok, applica. Vedete come non mi fa vedere più immagini raster che abbiamo importato. Solo in questa vista. Ok? Così per vedere meglio. Solo in questa vista, quindi perché questa è una delle proprietà della vista. Che tipi di oggetti? Lui, secondo le categorie dei oggetti, nasconde e accende. La stessa cosa quando lavoriamo con dvg, se vogliamo nascondere questo dvg di planimetria, possiamo andare su edit, però il dvg non dobbiamo andare su model categories, ma dobbiamo andare su imported categories. Qui ci scrive il nome del file che abbiamo importato e lo possiamo nascondere, perché è un file importato. Va bene, quindi facciamo un altro solaio, un solaio piano primo, perché come tipologia diversa. Faccio architecture, faccio qui floor e qui interno. Faccio edit type sempre duplicate. Faccio piano piano, uno. Ok? Ok. Allora adesso posso cominciare con il disegno. Qui anche posso selezionare i muri. Facciamo prima la selezione dei muri. E qui anche un muro. Qui un altro muro. Questo un altro muro. Vedete come qui è un po' gira, che diverso com'è. Però va bene, per noi tutto uguale. Anche se nel disegno, nella foto si vede che questo va così. Non è così. Ok. Questa foto esterna mi sembra che è così. Va bene. Facciamo così. Adesso split. Talio questo da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui, che qui non ci sta. Faccio altre linee. Questo per esempio. Ok. Trim extend. Questo qua. Questo qua. Questo con questo. Ok. Qui invece dovrebbe entrare dentro quindi seleziono una linea. Vedete se seleziono il muro, lui mi seleziono lungo il muro. Invece se devo fare così, questo piega. Quindi al lato corto del muro posso selezionare pick lines. Quindi prendi qualsiasi linea, prende in questo caso. Allora vado avanti con questo disegno. così. Ok. Qui devo fare. Adesso vado come un angolo. Poi lo aggiusto. va bene. Vado avanti perché qui c'ho il... Ah no. Vado avanti. Ok. Basta. Poi dopo faccio questo, questo, questo. Ok. E qui... Vedete qui c'è un altro solaio, però non è importante. Il solaio... Scusate, il rivestimento del bagno può essere isolato solo come rivestimento, volendo. Quindi possiamo fare il stesso solaio. poi io posso tagliare il rivestimento del sale e dire che qui devi dare un altro materiale. Questo è un altro materiale diverso da quell'altro. Quindi faccio così, così e qui torno. questo. Ok. Ok. Trim Extend. Ok. Questo con questo. Questo qui. Questo qui. Questo qui. posso spostarlo un po' verso il basso. Così. Adesso posso fare... Guardate qui. C'è Fillet Arc. Quindi voglio fare un arco. Vedete si vede dal video. Un arco da... due linee collegate. Quindi clicco il primo. Clicco il secondo. E poi qui posso indicare il raggio di questo fillet. Che io adesso lo posso fare ad occhio perché non mi importa una cosa molto precisa. Però vedete potete comunque cambiare il raggio. Cambiare il numero per fare una cosa più precisa. Quindi adesso per me va bene così e posso dare l'ok. vedete qui mi dice c'è un problema che qui è aperto questo. Vi indica dove è aperto. Quindi faccio continuo. Quindi per continuare a fare il disegno perché qui mi manca questa parte. rifaccio così e così. Ok. Questo può essere... può essere spostato verso l'alto. Così. Adesso di nuovo Fillet Extend. Ok. mi sembra va bene. Faccio ok. Adesso mi dice vuoi che arriva? Eh? No. Vuoi unire la geometria? Sì. Ok. Questo va adesso 3D. Vedete abbiamo anche il solaio del primo piano. Chi 5s. Ok. Quindi vedete. ень di rialline? Ok. Ok.